Siamo in compagnia del maestro Lino Conte, uno dei direttori artistici di questa poltronissima 2019, quinta edizione. Sta andando bene, tra l'altro questa sera siamo nell'intervallo della commedia brillante Riso, Patate e Sushi ed è molto apprezzata dal pubblico. Sì, siamo contenti per questo perché quando facciamo le nostre scelte non sono mai casuali perché o ci andiamo a vedere gli spettacoli prima o li visioniamo su DVD, quindi le scelte ricadono con una certa responsabilità. Conosciamo il nostro pubblico, c'è la commedia comica, c'è la commedia brillante, c'è la commedia dialettale, c'è lo spettacolo musicale, insomma cerchiamo di inserire tutte le tipologie di spettacolo proprio per cercare di accontentare tutte le esigenze del nostro pubblico. Voglio però un po' stuzzicarti nel finale, come si riportano i giovani o come si portano anche i giovani a teatro? Beh, è toccato un po' un tasto che è veramente da discutere, bisognerebbe veramente capire perché i giovani non si stanno avvicinando moltissimo al teatro, si fatica un po' per portarli, però noi sappiamo dove vanno un po' le responsabilità, ma non è questo il momento di parlarne perché sia per la commedia dialettale, noi dicevamo il dialetto, le radici, però i ragazzi non se ne fregano un bel nulla, detto proprio in maniera spassionata. Poi facciamo le commedia in italiano e la media va comunque dai 50 anni su, vediamo che per quelli musicali non ne parliamo proprio, però noi non abbiamo intenzione di organizzare quegli spettacoli, ma non perché non amiamo il genere Rocco, il genere Poppo, il genere che possa piacere ai giovani, noi abbiamo il nostro modo di fare le scelte su un certo genere di spettacolo perché sappiamo che il pubblico che ci segue vuole il repertorio classico, vuole il repertorio napoletano, vuole il repertorio del vecchio varietà, la vecchia canzone, noi sì potremmo fare un qualcosa di più moderno, ma che ci garantisce che i ragazzi verrebbero con la possibilità che hanno oggi di rivedersi mille volte le trasmissioni televisive o quant'altro, a dimostrazioni e a chiusura di questa parentesi, lo diciamo anche con Sanremo, noi ogni anno puntualmente siamo in scena con la finalissima del festival di Sanremo, non abbiamo mai avuto problemi, questo dimostra che Sanremo è seguito molto dai ragazzi, dai giovani e la gente che invece magari ha un'età un po' più grande preferisce venire a teatro, quindi questo ci dà un senso della misura che forse le nostre scelte non sono sbagliate. Un'ultimissima battuta, prossimo spettacolo ti è molto vicino, vorrei che ne parlassi tu, l'avevamo accennato anche con Aldo Salamino, altro direttore artistico. Sì, beh sono abbastanza contento perché mio figlio Antonello che ha curato la regia di questo lavoro più che brillante come trearinghe, è andato a Roma a vederlo, lui questo spettacolo si è presentato agli attori, alla compagnia, all'autore, e gli è piaciuto molto, me ne ha parlato, quindi ha deciso di metterlo in scena con attori esperti che abbiamo e sono un po' emozionato perché è la sua prima esperienza come regia. Credo che piacerà, credo che piacerà perché chiaramente l'ho già visto, l'ho fatto a Bari e il pubblico ha apprezzato moltissimo la novità del lavoro, perché non è il solito lavoro che magari uno dice, no è un lavoro un po' nuovo, un po' particolare, che si svolge in un'azione, in una scena e in un luogo particolare, per cui è abbastanza curioso, è emozionante, fa riflettere perché ci ritrova un intrecciarsi di storie di ognuno dei componenti, di ognuno degli attori che inizialmente si presentano tutti quanti, che noi alla fine quando raccontano la loro storia sono dei poveri cristi che hanno tanti problemi alle spalle e quindi devono un po' rivedere il loro comportamento e quindi riflettere e fare un'analisi di quello che è stato e che è in effetti la loro vita che devono avere più i piedi per terra che le chiacchiere. Aldo Saramino, sei uno dei direttori artistici di Poltronissima, edizione 2019, tra l'altro è consolidato come rassegna di musica, teatro, tra l'altro molto ma molto variegata e abbiamo visto qui l'auditorium Tarentum, splendida cornice, tra l'altro sold out. Sì, faccio la direzione artistica assieme a Lino Conte, bisogna ricordarlo. Sì, anche stasera a grande pubblico, questo è il nostro terzo appuntamento, abbiamo fatto due serate con il Varietà, quindi è stato molto frequentato, abbiamo fatto una Filomena Marturano interessantissima, sold out anche su quella e stasera ci proviamo con questa commedia comica. Divertentissima. Ecco, grazie, grazie, siamo contenti perché questo è carburante per noi per le prossime volte. In effetti poi abbiamo il 9 febbraio, abbiamo un'altra commedia brillante, si chiama Come tre a ring, già portata in scena da attori più importanti, ma i nostri non sono nemmeno perché c'è la compagnia Lino Conte. Quindi, Poltonissima ormai va, sono cinque anni che è la nostra creatura, mia, di Lino Conte e che ha un buon seguito, grazie anche forse a tanto lavoro che abbiamo fatto dietro e grazie anche a voi che ci date una mano. Un'ultima battuta, ma qual è il segreto del successo? Perché vediamo comunque il teatro pieno, ma soprattutto si sorride, ma non solo, come giustamente hai detto tu, perché l'offerta è davvero variegata. Sì, il segreto del successo è uno in tutti i settori nei quali io sia professionalmente, che dal punto di vista ammatoriale sono stato, è seguire unicamente i desideri del pubblico e essere al loro servizio. Quindi, se l'obiettivo è il pubblico, è lo spettatore, il successo arriva automaticamente e arrivano anche tutte le altre soddisfazioni. Quindi, l'unico obiettivo è la soddisfazione del pubblico che ci viene a vedere.